Il comandamento onora tuo padre e tua madre parla dei doveri dei figli verso i genitori ma indirettamente parla degli obblighi dei genitori verso i figli e dei doveri dei superiori verso i dipendenti. Il termine onorare implica una serie di atteggiamenti, di rispetto, essa vieta di percuoterli, di mortificarli, di maledirli, di insultarli. Inoltre il termine onorare che noi torniamo nei comandamenti anticamente significava dare l'onorario. A quei tempi non c'era l'assistenza del governo e dello Stato, non c'era la pensione, non c'erano varie assistenze moderne e quindi facilmente l'anziano era isolato e soffriva la fame e quindi il comandamento onorare, dare l'onorario ai genitori e questo è fondamentale. Abbiamo poi nella Bibbia una scena molto bella, la morte di Giacobbe e il pianto di Giuseppe, si trovano in Egitto e Giuseppe organizza il funerale del suo padre e viene ricondotto in Egitto con l'esercito egiziano, con gli onori militari. Perché questo? Perché volle dare il segno del rispetto al padre suo, perché Giuseppe amava suo padre e voleva che gli ebrei amassero i genitori. Oggi purtroppo l'anziano vive emarginato in una condizione di solitudine. Forse non gli manca nulla, non sempre all'affetto. Sono stato tanto tempo a servizio degli anziani in una casa di riposo, le confidenze che ho avuto sono sempre state quasi sempre identiche. Non mi manca nulla, ho l'assistenza che è meravigliosa, però i miei figli vengono poco e non mi fanno vedere i nipotini quanto vorrei vedere i nipotini. Cioè soffrono la solitudine. E quindi allora è necessario che si viva questa responsabilità in piedi. Allora onorare il padre, questa è la Sagra Scrittura. Chi onora il padre e spia i peccati. Chi riverisce la madre è come chi accumula tesori. Alla volta i figli vedono nei genitori solo gli aspetti negativi. Le cause sono varie, l'incomprensione, i litigi, l'ignoranza. Parlare con esse con affabilità. Non usare parole offensive, piuttosto chiedere consigli per farli sentire vive, importanti ancora. I figli non sono tenuti però ad obbedire ai genitori nelle scelte di vita futura. Se la scelta del figlio è scabrosa, è pericolosa, hanno il santo dovere di farlo notare. Ma attenzione sulla scelta della vita religiosa o di altre attività. Lasciare liberi i propri figli. Peccano gravamente coloro che abbandonano i genitori nella miseria e li privano del conforto religioso. Padre Pio assiste con tanto amore la sua mamma e con tanto amore e sacrificio il suo papà, zio Orazio.